Sarà una perizia medico-legale a stabilire il danno psicologico e morale patito dai familiari di Guerrena Piscaia. A disporla è stato il giudice del Tribunale di Arezzo, Fabrizio Pieschi, di fronte al quale si celebra il processo civile per il risarcimento. Il giudice evidentemente vuole approfondire questo aspetto e quindi vuole quantificare il danno. Noi poi dopo ci aspichiamo ovviamente che a questo danno partecipi anche la diocesi. I familiari della donna hanno citato in giudizio la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro e l'Ordine dei Premo Stratensi, re di non aver vigilato in modo appropriato la condotta di Gratiena Arabi, ormai ex frate. La diocesi aveva un obbligo di sorveglianza e anche di controllo e di conseguenza ne è responsabile. Due le azioni civili di fatto speculari, una promossa dalle sorelle e nipoti ed un'altra dal marito e dal figlio. Due milioni di euro di risarcimento chiesti in totale. Lorenzo, il figlio, era molto attaccato alla mamma, anzi diciamo che rappresentava il baricentro della vita quotidiana, cioè il figlio Lorenzo dipendeva dalla mamma. Ora è evidente che se la mamma non c'è più, questo baricentro non c'è più e quindi il danno è stato recato e quindi c'è una quantificazione. Il corpo di Guerina Piscaglia non è mai stato ritrovato. Il figlio scomparve da Caraffello il primo maggio del 2014. Per il suo omicidio e la distruzione del suo cadavere sta scontando 25 anni di reclusione Gratiena Labi, all'epoca dei fatti vice parroco del paese. È rinchiuso nel carcere di Re Bibbia dal quale continua a professarsi innocente. È evidente che lui sa com'è andata e dove è il corpo di Guerina Piscaglia, quindi la nostra richiesta è quella di dirci dove si trova il corpo.